L'emozione di ogni volta è una cosa che non mi spiego, nel senso che io provo e dico vabbè questa volta sarà diverso. La cosa che ti passa dentro sono gli sguardi dei ragazzi. Vedi anche un po' la nostalgia e la delusione, la paura che hanno di tornare a casa perché si trovano veramente bene e questo, come ho scritto anche il messaggio ai genitori, è la nostra più grande ricompensa. La prima edizione 2021 di Campus Masterclass si è conclusa in un mix di emozioni e tecniche equestre d'eccellenza. Ma tutto questo non potrebbe esistere senza il supporto di un gruppo di partner che investono quotidianamente sulla crescita dei ragazzi e sul futuro del nostro sport. Quello che abbiamo avuto durante questa edizione è un gruppo di partner diverso, un gruppo di partner innovativo. Abbiamo avuto, va bene, i mostri sacri come Cap Italia che ci segue dalla primissima edizione e approfitto per mandare un bacio a Lelia. Tutto ciò che noi riusciamo ad avere in più cerchiamo ogni volta di investirlo per far qualcosa di meglio. Quindi per noi avere un ulteriore sponsor significa fare qualcosa in più per i ragazzi, fare qualcosa in più per il format, fare qualcosa in più per lo sponsor stesso. È un continuo investimento, è un continuo andare avanti. Abbiamo iniziato questo format con una stupenda idea, e come tutte le belle idee è normale e fisiologico che venga in qualche modo riproposta da altri format. Non posso che fare i complimenti ai nostri competitor per quello che stanno facendo. La cosa che voglio dire, e lancio un po' una sfida anche su questo, che noi sicuramente faremo sempre meglio. Quindi la gara è aperta, la sfida è lanciata, noi siamo pronti a far meglio e faremo sempre meglio, ma lo faremo per i nostri atleti. Non perdere le puntate e tutti i contenuti extra di Campus Masterclass, sul web e sui social. Grazie a tutti.